Immagio li ho conosciuti circa tre anni fa, mi scrisse il chitarista Giacomo perché volevano arrangiare un loro inedito loro fino a quel momento facevano cover del Maroon 5 di solito i ragazzi mi mandano un demo, io da lì parto e creo l'idea alcuni sono già parecchi abbozzati, alcuni chitarre e voce intanto il prossimo disco sarà un album, non ho più un EP e sarà un disco più maturo la collaborazione è stata diversa perché comunque i brani arrivavano già più completi quindi ho comunque arrangiato i brani, io insieme alla band l'episodio è più divertente ma ce n'è un paio, uno sicuramente sono i demo che mi manda al chitarrista cantati da lui che io mi metto le mani nei capelli quando viene a registrare e per spiegargli le metriche io uso questa bacchetta qua e li faccio capire dove entrare e dove uscire il produttore artistico è fondamentale in una band o in un artista perché tira fuori il suono che loro non riescono a tirar fuori quindi io lo consiglio come figura fondamentale